Ciao a tutti da Diego di TecnoFallon.it Oggi vi rimostro Hub It, un caricabatterie universale che non è solo un caricabatterie ma anche un hub per collegare tutte le porte diciamo al nostro computer che ho già recensito qualche mese fa su TecnoFallon questo prodotto è in vendita al prezzo di 79,99 euro è un prodotto tutto italiano, creato e ideato da un ingegnere italiano si chiama Igor Spinella che saluto e oggi vi mostro un'espansione di questo Hub It che è davvero una figata perché dico questo? Perché chiaramente la cosa bella di questo prodotto è che è espandibile ovvero noi potremo aggiungere dei moduli per ampliare tutte le potenzionalità del dispositivo la versione base ha connettore mini USB, micro USB la vecchia porta per gli iPhone e la nuova porta Lightning per gli iPhone ma questa è davvero una novità molto interessante andiamo ad aprire questo cartoncino vedete è veramente piccolissimo di cosa si tratta? Si tratta di un caricabatterie wireless quindi noi adesso lo andremo a posizionare al centro voilà andiamo a chiudere il nostro Hub It e posizioniamo Galaxy S6 voilà è in carica come vedete funziona anche con una cover l'ho fatto apposta diciamo per farvelo vedere questa è una cover appoggiandolo anche con la cover il dispositivo parte in carica il tutto è davvero molto semplice immediato grazie chiaramente anche al Galaxy S6 che supporta la ricarica wireless il prezzo di questa espansione è di 29,99 euro mentre il prodotto è in vendita al prezzo di 79,99 euro è disponibile anche su Amazon ed è davvero un accessorio fondamentale perché in una sola stazione possiamo ricaricare contemporaneamente una miriade di dispositivi come vedete il Galaxy S6 è tranquillamente in carica c'è scritto circa due ore al completamento della ricarica per il momento è tutto ciao da Diego e da Hub It e dal caricabatterie wireless e dai Grazie a tutti.